Non solo il Regno Unito ha avuto il suo royal wedding, ma anche il Giappone. Nel santuario Meiji di Tokyo, avvolti in un kimono crema con fiori russi e verdi, la principessa Ayako ha detto sì al suo storico fidanzato, un borghese di 32 anni. Per coronare il suo sogno d'amore, però, la 28enne Ayako rinuncerà al suo status reale, ma riceverà una somma di circa 840.000 euro dal governo del paese del sollevante per le spese di mantenimento. Grazie.